Crazy Train è arrivato al Crazy Horse Crazy Train è giunto, giunto, giunto a destinazione dopo aver, insomma, una mattinata, non dico avuto ma quasi mi hanno fatto accedere all'evento privato del Napoli, del Konami Center in quanto era un evento privato appunto non sono prenotato nonostante in paradiso non sa c'è nessuno, è cà quindi mi prendo un, magari un latte freddo o qualche cosa ecco, a me ho posto al fresco delle fresche frasche dietro la mia macchina gemella ecco qua, rossa, bella e questo è il risultato della mattinata e ci vediamo, ci sentiamo, ci aggiungiamo ciao da Crazy Train al Crazy Horse ciao